In questo video vediamo come poter consegnare ai ragazzi dei link a dei video che siano però purificati di tutto quello che normalmente YouTube propone. Qui stiamo vedendo una tradizionale pagina di YouTube. Al centro è il video che abbiamo scelto, nello specifico è un video sul filosofo Giordano Bruno. Sulla destra ci sono i video correlati e poi, ed è questa la parte più potenzialmente delicata, ci sono i commenti. A volte i commenti sono disabilitati, per questo motivo dunque non possono insorgere problemi. Tuttavia a volte i commenti sono abilitati ed essendo abilitati possiamo trovare qualunque tipo di frase. Non ultimo, nella parte destra ci sono i video consigliati, ma a volte ci sono anche i video pubblicizzati, che quindi non hanno un contatto semantico, tematico col video che stiamo vedendo. In altre parole, nella parte destra possono esserci video di canzoni, video più o meno opportuni da visualizzare in classe. In più, aggiungo anche che i video che vediamo oggi sulla parte destra potrebbero essere diversi da quelli di domani, perché per lo più YouTube ordina questi video anche in base ai click. Vediamo quindi come aggirare questo problema, sia nel dare i link ai ragazzi che nell'usarli in classe. Innanzitutto bisogna scegliere il nostro video. In questo caso la scelta è stata fatta. Quindi salvo il link e vado poi nel primo dei siti proposti. Questo sito si chiama viewpure.com. Come vedete è molto semplice. C'è una parte in alto dove noi dobbiamo inserire il link del video di YouTube. A quel punto clicchiamo semplicemente su Purify e dopo qualche istante vedremo che il video ci viene proposto in una pagina completamente bianca. Non ci sono commenti, non ci sono video consigliati. In questo caso dunque non ci sono i problemi che incontravamo prima. Il sito viewpure fa esattamente questo e null'altro. L'indirizzo appunto è viewpure.com. L'aspetto veramente interessante è che io posso dare ai ragazzi questo link, non l'originale di YouTube, che ripeto può essere fuori controllo rispetto ai video consigliati e ai commenti. Io do ai ragazzi direttamente questo link, viewpure.com e poi una sequenza alfanumerica che viene generata. Naturalmente se il video originale di YouTube per qualche motivo viene rimosso è ovvio che venga rimosso anche quello di viewpure a cui di fatto è collegato. Un altro sito che fa esattamente la stessa cosa e qui vedete che già ho avviato il tentativo è questo, safeshare.tv. Funziona nel modo esattamente identico. Io inserisco il mio link, qui è presente anche il Vimeo, e poi genera link sicuro. Ecco qui. Il link sicuro è stato generato. Ora, safeshare fornisce anche un qualcosa in più. Qui sotto vedete uno slider con i minuti. L'intervento dura 30 minuti e 11 secondi. Se io volessi dare ai ragazzi soltanto una parte dell'intervento, che so, dal minuto 14 al minuto 18, io lo seleziono con questo slider. Clicco su save e il sito mi dice che è stato creato. Ecco qui. Dunque, il video non solo purificato, ma allo stesso tempo anche tagliato. Un'altra opportunità è questa. Questo è quiettube.com. In realtà questo è una specie di plugin, bookmarklet, che si installa nel browser. Come vedete, quando si va nella pagina di quiettube.com non si trova nulla. C'è solo questo piccolo rettangolo. Ecco, questo piccolo rettangolo deve essere trascinato nella barra. Vedete c'è un piccolo più. Ecco qui. E io me lo ritrovo nella barra di Chrome o eventualmente di altri browser. A quel punto che succede? Che se io vado su un sito qualunque, ne apro un altro. Ecco qua. Sempre legato all'enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche. Tramite questo bookmarklet, io cliccando, ho subito la purificazione della pagina. Questo serve essenzialmente per i video che vediamo in classe e che nascono da un bisogno non programmato. Quindi consiglio di installare questo quiettube nel browser della classe. Per il resto possiamo fare riferimento ai link generati da ViewPure e ai link generati da SafeShare.